Sabato 16 settembre, buongiorno e benvenuti al TGL News in primo piano, l'edizione 2017 della Coppa d'Oro. Nomi davvero illustri saranno premiati il 21 settembre. Si parte da Giuseppe Parenti, l'ex presidente di Confindustria e anche della Camera di Commercio. Si passa a Simone Inzaghi, l'ex calciatore bianco-rosso, attualmente allenatore della Lazio con grandi fortune. E poi Luigi Verlini, l'esperto agroalimentare e la trasmissione radiofonica molto conosciuta di Radio 2, il Ruggito del Coniglio. Dunque svelati queste mattine i nomi dei premiati con la Coppa d'Oro 2017, consegna il 21 settembre. C'è poi in primo piano una storia davvero particolare perché un violinista piacentino si trovava a Livorno nei giorni della alluvione e ha salvato letteralmente la vita alle proprie figlie sul nostro sito liberta.it e nel TGL il racconto di quei drammatici minuti. Parliamo poi di sicurezza perché per la Polizia Municipale di Piacenza sono in arrivo le nuove dotazioni, manifestazioni giubbotti antiproiettile e metal detector per aumentare non solamente la sicurezza degli agenti che intervengono ma anche naturalmente quella dei cittadini. Chiediamo parlando di musica, ieri sera la pioggia non ha fermato la Notte degli Angeli di Corte Maggiore, una manifestazione organizzata per ricordare le giovani vittime della strada. Il maltempo non ha impedito alle tante band di esibirsi proprio sul palco di Corte Maggiore. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e naturalmente nel TGL delle 13 e 15.